Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, il lutto è il sentimento di intenso dolore che si prova per la perdita, in genere, di una persona cara. Il costrutto teorico di lutto presenta rilievi di notevole rilevanza, sia in ambito psicologico sia antropologico. Nelle culture occidentali viene solitamente associato al colore nero. È morto a 36 anni il lottatore di Wrestling Bray Wyatt, nome d'arte di Windham Rotonda, personaggio famosissimo della WWW e di cui era stato campione nel 2017. A confermare la scomparsa di Wyatt, è stato l'ex wrestler statunitense Paul Michael Levesque, noto nell'ambiente della lotta come Triple H in un tweet ha spiegato Ho appena ricevuto una chiamata dall'olò famer della WWE Mike Rotonda, che ci ha informato della tragica notizia che il membro a vita della nostra famiglia WWE Windham Rotonda, noto anche come Bray Wyatt, è morto improvvisamente nella giornata di oggi. Ai fan Triple H ha quindi chiesto di rispettare la privacy della famiglia. Wyatt lascia due figlie avute dall'ex moglie Samantha Rotonda, e altri due bambini avuti dall'attuale compagna, Jojo Oferman.